Muoviamoci. Pronto, quando vuoi. Ci siete? Fuoco, fuoco! Aprite il fuoco. Quattro, fuoco! Quattro, fuoco! Quattro, fuoco! Gatsun, giù lo becate. Banditi, un momento. Banditi in a... Un momento. C'è un passione. Vengono dritti verso l'Ivo. Vengono dritti verso l'Ivo. Gli autodefensas dicono di volerli salvare dalla povertà. Nel Napoli, l'altro lupo è libero. Altrimenti dell'Ivo. Vengono dritti verso l'Ivo. Vengono dritti verso l'Ivo. Gli autodefensas dicono di volerli salvare dalla povertà. Sono dei sicari del cartello. Da dove cazzo sono spuntati? Un secondo. Elicottero, a terra. Woman, Pulpo è arrivato all'aeroporto di Barbacios e sta per volare in Messua. Eccellente. E il suo egno si fida di Pulpo, quindi in India e nei guai. Il Santa Blanca dovrà rivedere tutta l'operazione di riciclaggio. Continuate la missione. Roger, restiamo in contatto. Passo e chiudo. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Un attimo.